Il 25 maggio è alle porte e l'obiettivo in questo momento è far capire soprattutto alle aziende oltre che ai professionisti che si occuperanno dell'attuazione del GDPR che questa non è semplicemente una norma da applicare ma è l'opportunità di rivedere i modelli di business e le organizzazioni da un punto di vista globale. Questa è la vera sfida, quindi non c'è soltanto l'applicazione della norma ma quanto la norma avrà a che fare con gli impatti e con la vita da un lato delle imprese e quale sarà l'evoluzione del profilo anche dei professionisti a supporto. Quindi come riorganizzare le aziende da un lato, quali sono le competenze che dovremo in qualche modo o selezionare o far evolvere all'interno delle organizzazioni e quali saranno i profili anche dei professionisti che ci potranno aiutare da questo punto di vista. Stiamo parlando di un modello di innovazione completamente diverso ed è per questo che la Commissione di Innovazione Sociale di cui noi siamo Comitato Scientifico ha voluto fortemente questo modello anche di evento che sia praticamente una collaborazione tra più filosofie e un mix tra strategia e da un lato e operatività. Grazie. Grazie.